Benvenuti a tutti ragazzi, qui il vostro Giammi94 e bentornati su Crysis 3, il gioco più cazzuto del mondo videoludico. Dedico questo video al ritorno del mitico Just Falco ragazzi, grande Falco, continua così. Comunque continuiamo la nostra storia, Crysis 3. Ok, ragazzi, io ho rifatto sto livello 300 volte ma non ci sono riuscito. Infatti nel video, io avevo fatto già un video, l'avevo realizzato, solo che perdevo troppo ragazzi, troppe volte. E adesso ragazzi dobbiamo farlo per bene, per bene perché se no mi incazzo. Allora, abbiamo fatto questo ragazzi, dovevo prendere, ok, l'energia scarsa, male. Poi ci sta un cazzo di elicottero che mi rompe le palle. Dov'è stato l'elicottero del cazzo? Ok, noi piano piano, piano piano andiamo e ci facciamo tutti quanti fuori. Tutti quanti ce li facciamo. Tutti quanti. Aha, vieni qua pezzo di merda. Vieni qua pezzo di merda. Vieni qua pezzo di merda. Fottiti. Ok, raga scusatemi se ogni tanto, che c'è di qua? Scusatemi se ogni tanto non parlo ma sto in silenzio stampa che mi impegno. Ma qua c'erano le munizioni, merda. Io ho 30 anni per capire la prima volta. No. Occultamento attivo. Ok ragazzi, ok, 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 ok. Calma e sangue d'acciaio. Calma e sangue... No, quella è... Calma e sangue freddo. Perdonatemi. Bounce. Muori pezzo di merda. Muori. Tra atroci sofferenze. Ok ragazzi, andiamo tranquilli. Questa volta dobbiamo essere stelte. Sì, dobbiamo essere stelte. Sto scherzando. Raga ricordatevi che io scherzo e mi trovo allo stesso tempo, quindi non va bene. Io mi intanto me ne sto facendo. Ah, 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 ah. Madonna stanno venendo tutti da me, aiuto. Ok ragazzi, ok. Ah vaffanculo. Ah, gli ho reto le cose un po' più difficili. te li sto facendo fuori tutti io tu non stai facendo niente meno male che avevi detto ti guardo io le spalle meno male meno male meno male dove stanno non mi dire che adesso faccio una cazzata ricaricati 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 vale l'elicottero risciume risciume ho finito le merda quanto mi odio madonna quanto mi odio froscio vieni qua dai 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 non fatemi perdere tempo non fatemi perdere tempo vuoi vedere che muoio vuoi vedere che muoio un'altra volta vuoi vedere che muoio un'altra volta dai 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 fesse maffata vai siamo volgari viva la volgarità ah così dobbiamo essere volgari nei videogiochi viva la volgarità madonna raga quanto odio quando voi sparate mi si abbassa l'energia in un modo assurdo dunque ce ne stanno altri due stronzi lì e vabbè e vabbè noi ce li facciamo a colazione vuoi vedere due colpi per uno bene ok no vai oh violato fammi entrare froscio e ce l'abbiamo fatta raga madonna raga quanto ci è voluto per far sto cazzo di livello sicuro di farcela da dove ti trovi madonna palla finita non mi serve una muta del cazzo non mi serve una muta del cazzo va bene con calma le costi dicono con calma porca troia che paura madonna si è aperta la porta all'improvviso comunque dove devo andare aiutatemi aiutatemi aiutati che Dio ti aiuta va bene ve la vedo da solo grazie per l'aiuto fai passare verde come la speranza dai su dai su dai su dai su dai su grazie uh munizioni che belle armi ucce nuove nuova arma sblocheta mi piace questa arma mi piace mi piace che c'è pacchetti quindi quindi che devo fare potenzialmente sensori super furtività occultamento più veloce del 50% ragazzi che devo fare con sta arma voglio voglio come cazzo ah froscio io premo una volta devo tenere premuto perdonatemi ragazzi perdonatemi allora vediamo qual è qui cioè non c'ha una cazzo di di silenziatore sta arma che vergogna mamma mia comunque comunque dove sono aiuto mi sono perso dove devo andare perdonatemi ah no c'è il cazzetto qui che bisogna bisogna premerlo vai vai che cos'è una turgina ci vediamo più avanti certo non c'è problema non c'è problema e forse ho già capito dove che cazzo fai che cazzo fai ma sei trocio ah 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 e io me ne vado silenzio in silenzio che cazzo mi blocca ma vabbè silenzio io me ne vado in silenzio vado zitto zitto ah 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 aia uh non me ha visto il frugio ah ricaricati ricaricati merda ho finito anche le punizioni bene benissimo bene Benissimo Dove dovrei andare? Di là Va bene Io intanto vi faccio sto procio qua Perché mi dà un po' fiastidio Poco poco Mi dà Un po' ristruzzo Grazie Ok Occultamento attivato Vediamo dove andiamo Ah no no Stiamo andando bene di qua Ok Ok Noi andiamo in silenzio Vediamo se c'è qua Ule quanto ce ne stanno Va bene No no raga Qua non dobbiamo Ucciderli Ce ne sono troppi Troppi Madonna raga Ma che cazzo si immagina Gli sviluppatori Che sono un dio Che riesca a ucciderli tutti quanti In un secondo Ok raga Oddio 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 Via via raga Ah no sempre li devo uccidere però Cazzo Eh vabbè Eh vabbè Silenzio di tomba Tu non mi hai visto vero No non mi hai visto Bravo Oh rifroscio Non mi hai visto Ciao bello Scusami ma Tenimi una cosa sopra il collo L'ho voluta levare Vedi come sono buono E gentile A differenza vostra Che mi sparate addosso Stronzi di merda Ok via 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 Che cazzo è Madonna che paura Madonna raga Io non mi posso spaventare Per ogni minima cosa Check point Check point Posso salire qua No No sono caduto Aiuto Via 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 E No Voglio farla scivolata Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Dove andiamo Di qua Di qua Ok andiamo di qua Silenzio di tomba Quanti ce ne stanno Qui Uno Due Tre Quattro Cinque Sei E setto Oddio ho visto una cosa Che mi Ho visto una cosa Che mi piace Ho visto una cosa Che mi piace Le munizioni Per l'arco Oh Le munizioni Per il mio Archetto Vieni qua Bimbe Sto arrivando Papà sta arrivando Papà sta arrivando Che è una piscina Uh Mi piace la piscina Maglia Cazzo Cazzo Madonna Non mi ha visto Madonna Non mi ha visto Non ci posso credere Che malati Madonna Che malato Non mi ha visto Ragazzi Non mi ha visto Oh Cazzo Cazzo Ho finito Ah 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 No Che cazzo è Che cazzo è Che mi lanciano Aiuto Non mi vedi più Eh non mi vedi più Via 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 Cazzo Sto finendo anche le munizioni Merda Ma perché Non ho Non ho energia Via Ricaricati Ricaricati Frosho Ricaricati Madonna Dove cazzo vado Aiuto 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 Ricaricati Ricaricati Accultamento 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 attivo Da Uno Dai dai Veloce Veloce Ricaricati Bene Ok Ah Così Così Sprego più energia Stando in piedi Non me l'ero dimenticato Perdonatemi Vai Passa 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 Procia Ti Che ti ho girato il collo Vaffan Attenzione Violazione Nel settore Delta 7 9 Ricaricati Ok Accultamento attivo Ah ma io intanto ho sbagliato strada Io ho sbagliato strada Grande Giammi Via Dai 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 Veloce 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 Ok Ok Uh Comunque raga Dai un altro po' Un altro po' Un altro po' Non ti proviamo 13 minuti di pura adrenalina Via 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 Ok No non ti affronta Ah 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 Ok ragazzi io devo andare là Infiltrati Ho capito Ho capito che mi devo infiltrare Veloce 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 Corri Corri come un frocio No 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 Ah 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 Corazza massa Veloce 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 Iscrivetevi E commentate E noi ci rivediamo Sul seguito Ragazzi O di Crytis O di Crysis O di un altro gioco Beh ragazzi Ciao